Non è solo la cultura che non funziona, se ci pensiamo a questo che ha appena citato Gobbo, è un classico esempio di giustizia che non funziona. Pensiamo che classicamente le donne che vengono uccise in violenze familiari denunciano il loro aggressore decine di volte e la giustizia non può fare nulla. Cioè è esattamente quello che è successo con il caso di Mattielli, persona che lo ha derubato, ferita, tutto quello che sappiamo, questa stessa persona torna a fare la stessa cosa e la giustizia lo libera. Quello dell'aggressione alle donne, l'omicidio, il femminicidio è una parola bruttissima secondo me, l'omicidio di donne è esattamente spessissimo alla stessa identica dinamica, ribadisco, questo è un sistema che funziona? No.